Io quando sono chiamato in causa cerco di dare il mio contributo e fare quello che mi chiede il mister, basta. Un gol da centravanti quale non sono, ho stato anche fortunato a trovarmi lì, ci sono voluto andare e è andata bene, sono contento. No, ci lascia sicuramente più speranze, più convinzioni perché abbiamo visto che non sono una squadra impossibile da battere, quindi andremo là e proveremo a portare a casa la qualificazione. Per te quanto pesa nella tua stagione di vincenzo? No, per me pesa come una partita giocata senza gol, io do il massimo, qualche volta va bene, qualche volta meno bene, però io quello che faccio è dare sempre il massimo. Abbiamo un grande carattere e una grande forza. Complimenti. Grazie. Grazie.